grazie ciao ciao a tutti ciao carissimo grazie grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti troppo troppo grazie grazie basta troppo troppo stop troppo troppo basta basta calma 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 per la categoria 1000 iscritti ritira il premio project zero grazie grazie ancora calma calma che dire ragazzi grazie a tutti grazie davvero a tutti sono davvero emozionato su questo palco per la prima volta qui al project zero center veramente un'emozione grandissima sono arrivato a questi 1000 iscritti siamo arrivati a questi 1000 iscritti perché in realtà tutti voi qui presenti hanno contribuito con la propria iscrizione a rendere possibile tutto questo quindi grazie mille davvero di cuore a tutti grazie per davvero davvero non voglio cadere nel banale ma questo traguardo l'abbiamo raggiunto insieme e ci tengo a precisarlo insieme grazie per davvero grazie grazie per davvero cosa vuoi fare con 1000 iscritti sicurezza per favore fuori fuori il ragazzo lì quello con la maglietta rossa fuori grazie grazie due anni intensissimi di video di test di video cotte di ricette di prove anche perché questo video è già la seconda volta che lo rigiro perché avevo dimenticato di accendere il microfono e tra l'altro ho cambiato il microfono con questo nuovo perché quello di prima non funzionava più ma così è la vita quindi si va avanti e come si dice fare di fare è tutto lavorare e quindi che dire sono arrivato finalmente al traguardo tanto atteso soprattutto negli ultimi periodi dove vedevo crescere il canale dei 1000 iscritti quindi un obiettivo un primo obiettivo di questo canale che sono riuscito a raggiungere e così non sono molto abituato a parlare in pubblico però volevo giusto darvi due dati del lavoro che che mi ha portato a raggiungere appunto questo questo incredibile traguardo allora per arrivare a questo traguardo ho pubblicato in circa un paio d'anni 82 video che portano ovviamente una media di iscritto a video a circa 12,2 persone per ogni pubblicazione quindi 12 persone e un piede e così con un totale di 6000 ore di visualizzazioni c'è voluto tempo c'è voluto molto duro lavoro però finalmente siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo davvero sono molto contento vi ringrazio per il vostro supporto e anzi per chi non lo avesse ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video in uscita poi ovviamente non mi fa schifo anche se magari schiacciate sul mi piace qui sotto il video è stato davvero un bel viaggio fino ad ora questo traguardo mi permetterà almeno me lo auguro di sbloccare la monetizzazione dei video quindi big money a proposito parlando di money non ne avevo ancora accennato su questo canale ma mi pare corretto dirlo e da qualche mese ho attivato il programma affiliazione su amazon che mi permette di rientrare di una minima percentuale sugli ordini che vengono effettuati con i link che normalmente trovate qui sotto nelle descrizioni dei miei video sui prodotti che utilizzo la mia attrezzatura e quant'altro quindi tutte le volte che qualcuno acquista con questi link amazon mi riconosce una piccolissima percentuale poca roba sia chiaro ma quel poco mi ripermette di rientrare un po dei costi delle birre che spedisco ai degustatori per i test che faccio all'interno del canale di spedire le birre in una lotteria che faccio all'interno del mio canale telegram project zero ai partecipanti e così in generale un po di costi che mi permettono di tenere aperto tutto questo baraccone per cui sappiate che acquistando tramite i miei link state dando una mano a me per cercare di portare sempre nuovi contenuti e se invece non lo fate per cui credo di aver detto tutto se ci sono delle domande di voi tra il pubblico ah ciao daniele non ti avevo riconosciuto scusi lei che progetti ha per il futuro è bello quando le domande non sono preparate allora per il futuro l'obiettivo è quello del milione di iscritti e magari facciamo anche duemila che è un po più easy a milione c'è tempo per arrivarsi però cdc preparati che sto arrivando e comunque per chiudere la domanda nel immediato futuro c'è l'intenzione di diventare azionista di maggioranza di mashout podcast per licenziare francesco antonelli ah ciao frank non ti avevo visto lì ci vediamo dopo ci sono altre domande? ah prego come ci si sente con mille iscritti? ma hai la stessa voce di... e niente domani si torna lo stesso al lavoro non è che con mille iscritti da domani prendo mollo tutto e vado ai caraibi a prendere il sole quindi va avanti va bene dai se non ci sono più domani quando è che ti levi dal cazzo? ma da youtube o da qui? no da qua sicurezza per favore anche il ragazzo lì capellone fuori grazie portatelo fuori grazie bene dai io vi saluto che adesso ho l'aereo in partenza per las vegas perché mi aspettano per un altro convegno sempre per i mille iscritti che dire un saluto e al prossimo video ciao 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 grazie mille grazie mille ciao 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 ciao